Ma poi è arrivato lui, Sallustone. Floris, non hai notato anche tu una cosa eccezionale? Più il mondo va di merda, più Sallusti sembra l'unico sensato nella stanza. Eccolo lì, grandissimo. Ma ti vogliamo bene, guarda che è magnifico. Fino a che non sono scoppiati i merdoni, Sallusti sembrava Lucigno. E la culona inchiavabile, le bestie islamiche, ogni settimana faceva su un casino. E dal Covid in poi è diventato il maestro Miaggi. Dice solo cose sensate, quasi intelligenti. Domenica poi, spettacolo. Il Cremlino è un palazzo di merda, Cacciario è un utile idiota, i tuoi ospiti sono dei coglioni, la portavoce di Putin è una cretina totale. Ha fatto dei giri di parole ma ha detto quel che pensava alla fine. Non è andato dritto. Si è fatto capire.